siamo ancora in compagnia del re davide nel brano della prima lettura di oggi vediamo che re davide si mette a danzare con tutte le sue forze davanti all'arca dell'alleanza arca dell'alleanza che conteneva le due tavole della legge dei dieci comandamenti segno della presenza del signore in mezzo al suo popolo davide danza davanti all'arca con tutte le sue forze dice la sua fede per dio il suo amore l'amicizia il legame che il giovane re aveva con il signore ieri parlavo dell'alleanza con dio e dell'alleanza con gli altri l'importanza della relazione con dio e con gli altri ecco oggi soffermiamoci in modo particolare sulla mia alleanza con il signore se so ogni giorno tra virgolette perdere tra virgolette ripeto perdere un po del mio preziosissimo tempo che spesso sappiamo anche sprecare per stare con dio ricordiamoci molto bene che per capire se ci tengo ad una persona un elemento che ci aiuta a comprendere se ho se veramente ci tengo quella persona è se io ho il desiderio di dedicarle del tempo c'è alleanza amicizia relazione tra me e dio per capirlo chiediamoci se ogni giorno dedichiamo del tempo per stare con lui per pregare semplice vi ho sottolineato prima che nel brano si specifica che davide danzava con tutte le sue forze davanti all'arca del signore all'arca dell'alleanza pregare richiede e ricordiamoci anche sforzo fatica e un dispegno di energie ma lo si fa perché perché sappiamo che anche da quello sforzo ne traiamo un beneficio e questo viene evocato nel brano dal fatto che dopo la danza davide si mise a benedire il popolo pregare stare ogni giorno un momento in compagnia di dio ci fa bene è una benedizione nel vero senso della parola perché quando preghiamo ci ricordiamo di una cosa fondamentale io posso sempre stare con dio sono sempre degno di stare con lui perché lui dice sempre bene di me perché per lui sono prezioso preziosa sempre lui dice sempre bene di me anche quando vede i miei errori i miei sbagli ricordiamoci qualche qualsiasi cosa accada nella nostra vita noi siamo sempre degni di metterci davanti a dio nella preghiera si può e si deve andare a lui nei giorni belli come in quelli tristi quando sto camminando nel bene per chiedergli di continuare così e quando cado nel peccato per chiedergli di ritornare al bene al bello dio fa alleanza con noi ci promette che qualsiasi cosa accada lui al nostro fianco e non ci abbandona mai ma sta anche a noi fare alleanza con lui scegliere di farlo di scegliere appunto di farlo diventare davvero il nostro amico il nostro compagno di viaggio buona giornata grazie